Non sono mancati momenti di tensione all'interno del Consiglio Comunale di Pescara, convocato ieri in seduta straordinaria per discutere della vertenza sollevata da 67 lavoratori interinali fuoriusciti dalla partecipata attiva che si occupa della pulizia e della nettezza urbana di Pescara. Al termine del Consiglio è stato approvato, con 20 voti favorevoli e l'astenzione del Movimento 5 Stelle, un ordine del giorno che impegna Sindaco e Giunta ad individuare tutte le azioni possibili per favorire la soluzione della vertenza ed il reinserimento lavorativo degli ex interinali di attiva, formulando un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa la possibilità di procedere alla sottoscrizione di verbali di conciliazione che prevedano la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, con rinuncia contestuale da parte dei lavoratori all'impugnazione giudiziale del rapporto e alla domanda di risarcimento dei danni. Se questa soluzione poi darà i frutti giusti, i frutti che noi speriamo, certo che ben venga. E' un interpello, che loro lo chiamano così, un interpello da mandare al Ministero del Lavoro affinché lo stesso Ministero del Lavoro dia via libera, diciamo così, al Sindaco e all'amministrazione di poter procedere con la conciliazione, quantomeno con la conversione a tempo indeterminato. Ci sembra un pochino strano che stanno allungando talmente tanto i tempi perché a marzo scadranno i contratti di lavoro dei nostri colleghi che non hanno fatto ricorso tramite i legali, quindi non sono incontenziosi verso l'attiva. Questo ci lascia un po' perplessi perché se facciamo, penso in tutte le case 2 più 2 faccia 4, a marzo finiscono i contratti, stranamente il nostro tirocino dovrebbe cominciare il primo di aprile, momento in cui parte per quanto riguarda l'azienda attiva il lavoro di picco, il lavoro stagionale dove serve più gente, dove serviranno più persone.